Sulla seconda domanda, ma io non è una novità, ce lo siamo detto 10.000 volte, al 2013 c'è una scadenza naturale, il congresso del PD deve girare la ruota, ho sempre detto. No, perché non ho pensato altre cose, perché spero che in queste frequentazioni si sarà capito che io non sono uno che abbandona la nave, posso starci da capitano o da mozzo, ma non abbandono la nave, il mio concetto sta in questo. Grazie.